Io credo che nella mentalità di Zema non pensa al Bari, la mentalità di Zema pensa alla sua squadra. Io mi aspetto un Bari attento, un Bari che deve fare la partita perfetta nelle due fasi, sia quella difensiva sia quella offensiva. Mi aspetto un Bari perfetto perché se no è difficile contrastare una squadra che in questo momento va a mille.